Come noto, dieci anni fa i quartieri, le circostizioni venivano soppresse e a nostro giudizio, anche con la passata amministrazione, c'è stato un vero e proprio buco, nel senso che si è perso questo importante strumento cittadino di partecipazione popolare. A mio giudizio questa amministrazione, anche su Pungolo di noi, di noi della Fano dei Quartieri, ora confluiti diciamo in noi città, ha restituito con una recente approvazione in consiglio il regolamento per i consigli di quartiere, che dunque ritrovano in questa città il loro ruolo e la loro funzione. Che cosa vorreste che prendesse vita nei quartieri? Sì, allora innanzitutto i quartieri devono diventare il centro di vita di noi cittadini, di noi cittadini abbiamo le nostre relazioni, amicizie, la parrocchia, dunque devono tornare ad essere vivi. Essere vivi cosa significa? Avere innanzitutto una sede, un centro dove le persone possano incontrarsi, dialogare. Stiamo pensando a poter decentrare degli uffici comunali per il disbrigo, per chi non è digitalizzato, per chi non va su internet, per il disbrigo di piccole pratiche. Stiamo pensando alla istituzione, alla presenza di quello che potrebbe essere il vigile di quartiere, per cercare di monitorare, assistere la popolazione in quelle che possono essere delle piccole necessità, quale elemento di controllo, ma anche deterrente per eventuali malintenzionati. Stiamo pensando al ruolo di un assistente sociale che possa vivere nei quartieri e relazionarsi con le persone. Stiamo pensando a dei luoghi, queste sedi dei quartieri dedicate ai giovani, dove i giovani possano incontrarsi e organizzare anche un po' la loro vita sociale. In ultimo la parte urbanistica, l'abbellimento, dove ogni quartiere possa avere un budget di spesa e fare una sorta di lista della spesa di quello che vuole per il proprio quartiere, su un budget già predefinito dall'amministrazione comunale, gli cittadini danno quella che secondo loro è la priorità di intervento. Punti di raccolta delle desiderate dei cittadini e punti di dialogo con l'amministrazione comunale.